Benissimo, ora che abbiamo imparato a creare delle stanze, a creare degli oggetti e a mettere anche dei quadri impariamo anche a mettere un secondo piano o anche più piani quindi a questo punto cosa facciamo per creare un secondo piano? basta andare su piano, aggiungiamo un livello aggiungendo un livello compare un nuovo livello che vedete che su questo livello facendo contro con la cosa ci fa vedere il livello di sotto e noi di questo livello possiamo a questo punto dipingere i nuovi muri o le stanze mettiamo che noi vogliamo fare una cosa aerea, una cosa sofisticata in cui praticamente la galleria d'arte si svolge su due piani in altezza con dei pavimenti intermedi una cosa un po' strana ma non è difficile da fare quindi qui praticamente dobbiamo fare di nuovo tutti i muri come abbiamo imparato a fare quindi mettiamo i muri che circolano sul secondo piano vedete che qui abbiamo aumentato le dimensioni e poi diciamo che qui facciamo un piano intermedio quindi facciamo un pavimento qui lo chiama stanza, questa è la confusione io non avevo capito che questa è la stanza quindi lo facciamo praticamente che questa stanza è fatta a metà qua vedete che c'è praticamente una facciamo escape e quindi la stanza è fatta quindi se vedete c'è la stanza che tra l'altro forse conviene andare su questo prendere questo muro e spostarlo leggermente a sinistra insomma poi comunque vedete adesso volevo ampliarlo un po' perché vedete che c'era questo piccolo difetto quindi facciamo così ora, quindi praticamente cosa abbiamo? che il piano di sotto praticamente ha le sue cose con eventualmente i suoi quadri e abbiamo un piano di sopra rialzato come facciamo ad andare nel piano di sopra? è molto semplice andiamo nelle categorie sempre tutto e cerchiamo scale e abbiamo ad esempio una scala curva o scala normale scala curva consentirebbe se lo mettete ovviamente nel piano di sotto quindi level 0 e lo mettiamo qua per andare sopra sul piano di sopra non di questa qui tra l'altro mancherebbe forse abbiamo una porta che magari poi inseriamo siamo persa per strada l'avrò cancellata quindi adesso la rimettiamo questa porta sicuramente quindi scusate mettiamo porta porta facciamo una condizione porta fatta così insomma un po' mettiamo qua ovviamente e poi la facciamo magari un pochino scegliamo questa cosa qua la allarghiamo e poi diciamo che la mettiamo mettiamo invece qua la scala che va verso l'alto dove si vuole mettere insomma adesso la metto in un posto giusto per fare corto il video quindi cerchiamo scala scala curva e la scala curva la mettiamo qua per dire quindi la appoggiamo anche qua quindi vedete che abbiamo una scala che va al piano di sopra eventualmente la possiamo ruotare se la vogliamo in un'altra dimensione per dire così ad esempio ecco vedete che facendo così eh no però così ancora non è quindi magari la mettiamo la mettiamo un pochino dunque sempre laterale qua attaccata qua però la facciamo magari che parte adesso che sia realistic ah no però deve andare praticamente proprio agganciarci agganciarsi al di là e quindi va rovesciata quindi va rovesciata quindi va fatta così vedete che dobbiamo arrivare praticamente al piano di sopra hm e magari la mettiamo un pochino staccata magari la mettiamo possiamo anche metterla tipo tipo qua che magari dà in realtà un filo meno fastidio comunque vedete che abbiamo riscendiamo livello 2 vedete che c'è praticamente la scala che permette di arrivare quindi possiamo in questo momento possiamo ipotizzare di avere una galleria che ha due piani e e possiamo passare da un piano all'altro con una scala che occupa poco spazio aspettate mettiamola ecco qui vedete ecco facendo in questo modo riuscite a a metterla esattamente nelle dimensioni che volete quindi potete anche metterla larga a piacere se volete se la volete larga oppure addirittura come in questo caso potreste mettere anche una scala normale oppure anche una scala chioccia prima mettere scala chioccia scala chiocciola che praticamente allora sicuramente ctrl z dobbiamo metterla al piano di basso e il piano di basso la mettiamo praticamente qua ok e qui la possiamo girare in modo tale che l'ingresso di questa scala chiocciola sia per esempio così cioè che parta qua e vada sopra quindi al piano di sopra questa scala no qui non va bene quindi dobbiamo arrivare praticamente che arriva praticamente lì e vabbè la mettete poi disponete forse la scala chioccia qui non era la soluzione migliore però insomma funzionerebbe anche così è un'architettura un pochino particolare qui taglia tra l'altro un pezzettino quindi sicuramente non sarà la cosa giusta la magari dovete mettere un pezzo di muro qua sopra quindi dovete fare una stanzina quindi andiamo qua stanza e qui manca un pezzo quindi dovete mettere praticamente il pezzettino di pavimento che va qua e va qua e va qua ok confermate ok e poi eventualmente la potete allargare un po' ad esempio questo credo che ah si ctrl z insomma fate un po' fate un po' di sperimenti e vedete di mettere gli oggetti e a questo punto vedete che potete fare più piani o anche fare altri padiglioni che si uniscono qui ovviamente dovete poi aggiustare anche il pavimento qui che è uscito fuori quindi andate con la posizione no andate nel pavimento che sarebbe questo qui nella parete e potete eh eh no questa qui non è la direzione che sballava ma è questa neanche questa quindi dovrebbe essere questa qua ah si questa qua che era a ctrl z allora ecco e vedete che qua proprio sporgeva e quindi questo è il modo giusto e poi ci lavorate sopra quindi adesso questo è un po' tutto per la parte di progetto multipiano ah si ecco l'ultica cosa che potrebbe potreste voler fare è di selezionare un muro come questo fate doppio click e se volete cambiare il colore potete farlo cioè quindi potete dire più o meno come potete metterci anche una texture volendo il lato del muro del muro oppure una texture comunque il colore diciamo da una parte di questo potete farlo ad esempio giallo e il colore del lato destro farlo blu ad esempio e facendo ok praticamente vedete che avete modificato il colore dei lati del muro e quindi potete fare anche degli effetti cromatici piuttosto che anche metterci delle texture tipo in tonaco o altre cose in modo tale da ottenere degli effetti a vostro piacimento direi che per il progetto di una piccola galleria d'arte ho un grande anche piacere potete fare galleria grossissima e tutto e ci sentiamo nel prossimo video dove cercheremo di convertire questo oggetto in altri formati che possono essere utili per i mondi virtuali per i mondi